Mi chiamo Dana Catherine Schelley, sono un'agente speciale dell'FBI. Ho scelto di arruolarmi dopo gli studi in medicina per ampliare le mie conoscenze come medico legale alla ricerca di giustizia in un mondo basato sulla scienza. Poco dopo essere entrata nell'FBI, mi hanno incaricato di rivedere il lavoro di un altro agente Fox Mulder e discreditare gli X-Files, indagini che implicavano ciò che i miei superiori vedevano come fantascienza e spreco di risorse. Presto sono arrivata alla conclusione che il lavoro di Mulder sul paranormale non era come mi avevano fatto credere e che gli X-Files erano casi su cui valeva la pena indagare con attenzione. Esiste un mondo oltre i confini estremi della scienza ufficiale, un mondo in cui una scienziata come me avrebbe visto le sue convinzioni messe duramente alla prova. Sono arrivata persino a temere che l'istituzione in cui avevo riposto la mia fiducia fosse soggetta all'influenza di forze oscure, fuori dal dipartimento e anche al suo interno. Forze minacciate dal lavoro di Mulder e di conseguenza dal mio. Quando la minaccia si fece evidente, fui rapita in casa mia da aggressori ignoti e tornai senza avere mai capito esattamente il perché. Ma gli avvenimenti di quel periodo mi hanno portato a credere che durante la mia breve assenza io sia stata sottoposta ad alcuni test che hanno avuto come conseguenza una misteriosa malattia mortale da cui sono guarita altrettanto misteriosamente. test che ora penso facciano parte di una cospirazione più ampia, una cospirazione di uomini che hanno nascosto incredibili scoperte scientifiche. Segreti celati al popolo americano da un consorzio dagli scopi egoistici deciso a consolidare il proprio potere sia internamente che su una scala pericolosamente globale. Ma ci sono domande senza risposta. Quali sono i moventi e gli obiettivi finali? Dove e quando questi uomini metteranno in atto il loro piano oscuro? E cosa significa il risultato delle analisi sulla mia mappa genetica? In cui ho trovato anomalie del DNA che posso solo classificare come aliene.